GDF Atomic Al quarto posto troviamo GDF Price che praticamente dimostra la sua precisione con il Morse anche se gli tirano contro una violazione di sistemi e lui non riesce a sbagliare un colpo Davvero clip molto bella la vediamo qui con il suo Morse guardate non riesce a sbagliare un colpo incredibile Purtroppo probabilmente sarebbe stata in feed ma come vedete c'erano le violazioni di sistemi e non si vede Alla terza posizione troviamo GDF Atomic ovvero me che vi porto una tripla one shot con l'MSR su MV3 ovviamente Sul zona di lancio come vedete anche dalla clip rallentata i nemici non erano perfettamente allineati ma li riesco a prendere In seconda posizione troviamo GDF Pani che oltre a essere un commentatore fa anche queste clip molto molto belle Qui sta giocando su postazione su Nuketown e con il DSR fa una tripla one shot e riesce anche a prendere il nuclear E' una 27 di fila fa una tripla one shot e prende anche il nuclear In prima posizione troviamo GDF Blades che ci fa una strage davvero una strage su Ghost con il TAC Se non mi ricordo male Cioè guardate vi lascio commentare a voi Cioè tutto in feed ne prendi una decina consecutivamente davvero una clip molto molto bella Spero che questa top vi sia piaciuta se è così lasciate un mi piace e un commento passando in iscrizione nei canali dei membri Un saluto da GDF Atomic Ci becchiamo al prossimo video Bene ragazzi Non ti piace il GDF Non ti ammazzati Non ti ammazzati Non ti ammazzati Quando arrivo devi farmi passare